Madonne Messeri, pubblico delegate, siamo qui via internet a salutarvi e a darvi appuntamento a una data da stabilire, ma continuate a seguirci con i nostri spettacoli online. Giullari del diavolo vi salutano e vi augurano felicità, perché anche se vi dicono che la felicità non esiste, si può essere felici senza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.